Ha preso il via ufficialmente il processo sui presunti illeciti commessi nella realizzazione del tratto terminale del gasodotto TAP che porta metano in Italia, approdando sulle coste di Melendugno, proprio nel Salento. Sul banco degli imputati la stessa società TAP, 18 persone accusate a vario titolo di deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia di lizia, inquinamento idrico. L'udienza si è tenuta davanti al giudice Maria Francesca Mariano. I legali hanno esplicitato l'eccezione sui capi di imputazione ritenuti a loro dire nulli, poiché è troppo generici e sulle nullità del decreto per omessa indicazione delle motivazioni dei capi di imputazione stessi. E' insuperabile, cioè noi oggi non sappiamo se i soggetti che è in qualità, in qualità, in prova la violazione del reato consupposto, in quale ruolo se non siamo chiamati a rispondere. Posizioni rispedite al mittente dal PM Prontera che ha spiegato ed entrato nel merito dell'iter delle fasi investigative. Il capo 1 qui recetisce squisitamente il capo 1 gli esiti dell'incidente provatore che la vanno solo per quel capo 1 e quindi non è più nel corso ma diventa. Iniziamo nel corso di 1, guardate che la scelta delle parole non è casuale. Iniziamo nel corso di 1.